Andrea Farolfi nel sediolo numero 6, macchina che accelera, intanto c'è stata subito l'incertezza di Sinfonia Celeste mentre si lancia in avanti Sting Starlight che va a condurre nei confronti di Speedy Matley all'esterno Sessobrelight Intanto completamento della prima piegata con Sting Starlight che guida in seconda posizione Speedy Matley in tanti duecento in quindici e due All'esterno rimane Sessobrelight che poi cerca inutilmente di trovare posto in scia al leader Ripeto, numero 6, Stratocaster squalificato Per Stratocaster, i cavalli sono sulla seconda piegata con sempre Sting Starlight a condurre All'esterno è rimasto Sessobrelight a lato di Speedy Matley Tenta intanto di risalire Spinning Numero 8, Sinfonia Celeste squalificato Qualifica anche per Sinfonia Celeste, tenta posizione alla corda intanto Sultano Laser Cavalli che completano il mezzo miglio iniziale nell'ordine dell'1-1 Sempre nettamente in vantaggio Sting Starlight quando affronta la penultima piegata In seconda posizione Speedy Matley davanti a Sultano Laser che a questo punto sposta all'esterno Sultano Laser va su Speedy Matley dopo un chilometro in 1.16.6 E si lancia all'inseguimento del leader 500 alla conclusione, sempre 4 lunghezze di margine per Sting Starlight Cerca di ricucire il gap Sultano Laser quando siamo all'attacco della curva conclusiva Indietro Spinning Metà curva superata con Sting Starlight che ha ancora buon margine di vantaggio Su Sultano Laser che si impegna comunque nell'inseguimento Completamento della curva, ingresso in retta d'arrivo Il parziale in 15.3 per Sting Starlight Che nel finale ha ancora notevole margine di vantaggio su Sultano Laser Che deve accontentarsi della seconda moneta Il successo netto per Sting Starlight Il secondo posto per Sultano Laser Al terzo chiude Spinning 1.16 netto il raguaglio per Sting Starlight Alfredo Pollini in sediolo Training di Battista Congiu Per Sting Starlight che con il raguaglio di 1.16 Fa il suo record abbassandolo nettamente Un secondo e otto decimi Vittoria nettissima per Sting Starlight Alfredo Pollini Secondo posto per Sultano Laser Al terzo chiude Spinning Il secondo posto per Sultano whoever Within Grazie a tutti.